Presentata questa mattina in conferenza stampa la quarta edizione della manifestazione Borgo in Fiore, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Agropoli in collaborazione con la Proloco Sviluppa Agropoli e il Forum dei Giovani. La manifestazione rientra nell'ambito dell'iniziativa Comuni Fioriti, le finestre, i balconi, i portoni, i vicoli e gli angoli più suggestivi del centro storico saranno allestiti con decorazioni floreali. Il successo raggiunto gli anni passati ci convince che la direzione è quella giusta perché, se ricordate, il concorso nacque sostanzialmente per far nascere una collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale nell'abbellimento del centro storico, il modo più bello per abbellire il nostro centro è riempirlo di fiori, ecco perché è nato questo concorso. E questa sinergia che si è costruita ha prodotto tanti risultati, non ultimo quello che il Borgo di Agropoli è diventato noto proprio tra i Comuni Fioriti d'Italia ed è stato anche premiato per la sua bellezza. Quindi era giusto continuare in questa direzione, lo faremo anche quest'anno. E quindi con la scusa di questo simbatico concorso che premierà tra l'altro i cittadini del centro storico che, come al solito, addobberanno in una maniera più bella le finestre, i balconi o i portoni del centro storico, avremo la possibilità di fare una splendida passeggiata proprio nel nostro Borgo tra i mille colori dei fiori che tra amministrazione comunale e cittadini andremo, come al solito, a piantare. È fissata infatti per il primo maggio l'inaugurazione della manifestazione in piazza Madonna di Costantinopoli, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 28 giugno prossimo. Come di consueto, ai concorrenti saranno assegnati dei cartelli numerati che dovranno essere esposti per tutto il periodo del concorso in prossimità dell'area decorata. In questo modo i visitatori potranno ammirare gli allestimenti e dare la propria preferenza a quelli maggiormente graditi. Come ogni anno ci sono sempre più iscrizioni. L'anno scorso ci sono state 30 iscrizioni anche per Via Patella. Quest'anno il concorso partirà dal 1 maggio al 28 giugno e le iscrizioni partiranno dal 13 aprile e scadranno il 22 aprile. Il concorso è rivolto naturalmente ai cittadini del centro storico e ai commercianti del centro storico e anche quelli di Via Patella. Ci saranno tre categorie che saranno finestre fiorite, balconi e scorci fioriti e portoni fioriti, dove ci sarà sempre un primo, un secondo, un terzo classificato per ogni categoria. In più ci sarà il premio turista nel borgo, la categoria più votata dai cittadini sul sito della Prologo Sviluppa Agropoli e poi ci saranno 15 buoni di consolazione da dare ai concorrenti che non saranno tra i tre primi classificati.